Sono Ed China e queste sono le trinciatrici Delex serie pesante. Questa è l'alce per le rive e questa è la toro orizzontale. I corpi trincianti hanno più o meno lo stesso design e fanno più o meno lo stesso lavoro. Sono progettate per trattori con motore da 80 cavalli o superiori e l'attacco a tre punti è dotato di perni di categoria 2. L'alce è spostabile e orientabile, studiata per fossi e quel genere di lavoro, mentre la toro è più adeguata per lavori in campo aperto e pianeggianti. Un trinciatutto universale che può falciare qualsiasi tipo di vegetazione. Andando alle specifiche, queste macchine possono gestire stocchi e ramaglia fino a 5 centimetri di diametro, come larghezza di taglio, l'alce esce in 6 versioni dalla metro e quaranta alla due metri e venti con intervalli da 20 centimetri, mentre la toro esce in quattro misure, un metro e novanta, due metri, due metri e venti e due metri e quaranta. E la ragione della misura di un metro e novanta è perché entra perfettamente nei filari di prosecco, buono a sapersi. Ma ora andiamo a vedere più nel dettaglio. Iniziando con l'alce, qui possiamo vedere le pulegge e queste quattro cinghie da 17 mm sezione B che sono progettate per trasmettere coppia alla macchina. E parlando della trasmissione, abbiamo un moltiplicatore lombarda ingranaggi di ottima fattura ed efficiente nel trasmettere tutta la potenza. Ora, tutta la macchina è costruita per durare, è molto, molto pesante. Prendo delle misure col metro. Puoi vedere che questo è un 10 centimetri. Questa sezione di tubo e l'attacco qui è di 10 mm e immagino che il tubo sia tra gli 8 e i 10 mm. È concretamente pesante e costruita per durare. Immagina quando sta lavorando completamente fuori sagoma, che carico di forza viene esercitato su questi bracci e il motivo per cui sono di ben 16 centimetri di altezza è per assorbire tutta quella forza, tutta quella torsione. E infatti per aiutare con tutto quel movimento, tutti i perni hanno i loro ingrassatori per essere lubrificati senza mostrare il grasso e farà in modo che quel grasso resti lì, agevolando il movimento così da mantenere il tutto flessibile per molte ore, per centinaia di ore di utilizzo. Ora, se iniziamo a guardare il corpo trinciante, vediamo che ha molte pieghe lungo il profilo e ognuna di queste pieghe è un punto di forza della struttura e contrasteranno la forza di torsione in corso. E se guardiamo dentro, assicuratevi sempre che il trattore sia spento prima di metterci le mani, ecco qui vedete questo strato aggiuntivo d'acciaio che serve a proteggere la parte superiore da tutti i frammenti di pietre e materiale che girano e rimbalzano dentro. Qui poi abbiamo un'idea intelligente, è nel cuscinetto, che è montato sul rullo così l'asse non gira e stando fermo non gli si attorciglia il materiale trinciato, col risultato che resterà sempre bello pulito. Ora puoi anche vedere attraverso questo sportello il rotore con tutte le sue mazze, ma mettiamolo sul bancone per dare un'occhiata da vicino. Ecco, questo è il rotore montato sull'alce, è 152 mm di diametro ed è piuttosto grosso e puoi notare questa splendida linea spirale che viene disegnata dalle mazze. Prova a immaginare un motore a quattro cilindri, non troverai mai quattro cilindri tutti insieme, darebbe un orribile effetto e vibrazioni, li vedrai tutti in sequenza, lo stesso accade qui, in pratica questo riduce al minimo le vibrazioni e il rumore del meccanismo. Un paio di altre cose da notare, puoi vedere qui i supporti e le mazze che sono tutti forgiati, quindi sono davvero duri, non solo fusi in ghisa o tagliati con laser dalla lamiera, ma forgiati in modo che siano compressi per rendere l'acciaio davvero tenace, sono saldati dappertutto, quindi veramente ancorati all'albero. E ancora un'altra cosa bella qui è questo disegno smussato che serve a ridurre le vibrazioni quando colpisci le pietre o altro, un sistema che evita il colpo diretto e frontale coi corpi, quindi ancora questo design riduce le vibrazioni, riduce il rumore e rende tutto il sistema fatto per durare di più e a lungo. Parlando poi dei cuscinetti, che puoi vedere anche sul lato opposto, sono a rulli, davvero adorabili, e sono anche ingrassati singolarmente. Puoi vedere la piccola estensione dell'ingrassatore lì, che poi vengono fissati al telaio con sette bulloni, quindi restano fissati in posizione, ma li puoi anche lubrificare col tuo grasso shell per assicurarti la protezione dei componenti in movimento, armoniosamente per tutta la loro vita. Ora, hai un terreno particolarmente sassoso, devi trinciare gli stocchi del mais, allora meglio sostituire le mazze con i coltelli, poiché ognuno è fissato individualmente a questo bullone. Se un sasso lo dovesse colpire, si muoverebbe da solo, riducendo lo shock che si trasmetterebbe al rotore. Ora, se pensate che questo albero dell'Alce sia già bello grosso con i suoi 152 mm di diametro, quello della toro è una bestia di 170 mm, ma lo stesso si può dire per il resto della macchina, perché è più pesante, più robusta, più capace di gestire lo sforzo del lavoro agricolo. Voglio dire, ad esempio, se guardi questo tubo coromato dello spostamento, puoi vedere, ecco prendo fuori il metro, ha un diametro di 60 mm e uno spessore di 10 mm. Voglio dire, non lo piegherai mai, è super forte e durerà per decenni. Anche la cassa, tutte queste pieghe e nervature, proprio come sull'Alce, fatte per assicurarsi una struttura rigida e forte. Vedi anche qui altre pieghe aggiuntive sui lati per mantenere quella rigidità in ogni possibile angolo a cui puoi pensare. Per capire quanto sia robusta basta solo guardare il suo peso. La larghezza di lavoro è 2,40 m e pesa 770 kg, che è veramente un sacco di materiale, e ne avrai d'avanzo per il tuo lavoro sul campo per molto, molto tempo. Un paio di altri dettagli di cui parleremo. Come l'Alce, la toro ha lo stesso design del rullo, con i cuscinetti attaccati e con i supporti fissi evitiamo l'aggrovigliamento, ma in aggiunta qui abbiamo questi coltelli che formano un rastrello posteriore. Immagina ognuno di questi coltelli che viaggia sul terreno e procede su e giù, seguendo i dossi, e rastrella tutti i rametti, in particolare quelli della tua vigna di prosecco. In pratica li solleva e li rigetta nel rotore per essere ulteriormente triturati e ridotti a pacciame. Quindi sono molto utili per questo. Ora, se guardiamo qui al lato, quando pensavi che 4 cinghie fossero sufficienti sull'Alce, questa ha 5 cinghie da 17 mm sezione B. Questa può trasmettere una coppia esagerata. Per quanto riguarda i cardani in dotazione dalla Delex, sulla toro abbiamo un categoria 8, mentre per l'Alce abbiamo un categoria 5. Ricordiamo che Delex fornisce su richiesta anche una versione omocinetica che segue meglio il movimento del braccio dentro e fuori. In conclusione, se hai un trattore di una certa categoria e parecchio lavoro da fare, queste sono le macchine per te. Grazie. 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 Grazie.